Il giudizio di Dio Il giudizio di Dio su ciascuno di noi, come diciamo ogni domenica nel credo, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Non scapperà nessuno, eh? Non scapperà nessuno. Il giudizio di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Allora con queste tre semplici lezioni che mettiamo nel calice e nell'ostia di questa nostra celebrazione del 5 di ottobre, chiediamo al Signore di avere la sapienza del cuore per essere pellegrini dal cuore libero, distaccato, sereno, tranquillo. Secondo, imparare a perdonare, imparare a perdonare. E terzo, anche se è difficile, dovremmo dire come il grande Nino Manfredi, lo ricorderete, Nino Manfredi che diceva La voce è poca, ma intonata. E quindi cantiamo non solo nella Chiesa, la domenica o in questo santuario di Padre Pio, cantiamo nella vita, nella casa, nel cuore, anche se ci costa fatica. Cantiamo il canto della libertà, della serenità e della gioia.